Punizione per il Cagliari Si porta in avanti anche Sanna, Retraban, Matteoli Scelto Pucceddu Herrera, ottimo il controllo Delivaldese, Herrera in area In difficoltà la difesa della Juventus e c'è il gol di Delivaldese Non ha sbagliato con il destro Quindicesimo minuto della ripresa Delivaldese libera la sua gioia Cagliari 1, Juventus 0 Matteoli va a incitare i compagni Moriero ha abbracciato Herrera, protagonista dell'incursione decisiva Rimpalli, a vuoto Köhler Delivaldese Palla sul destro e conclusione secca nell'angolino basso alla destra di Peruzzi Che nulla ha potuto Spietato Delivaldese Palla sull'interno del palo addirittura Grazie a tutti Grazie a tutti